ciao sono giulia mancini master crystal nails in questo video vorrei presentarvi una delle novità inverno 2023 ma prima di farlo vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube e di attivare la campanellina così da non perdervi nessun tutorial la novità che vi voglio presentare sono le nuovissime polveri sense chrome mirror deluxe in due diverse versioni gold e rose gold che saranno perfette per qualsiasi tipo di nail art ma soprattutto perfette per il periodo che sta arrivando il natale se rimanete con me vi farò vedere la loro corretta applicazione come tutte le polveri chrome mirror anche queste polveri hanno bisogno di un prodotto autosigillante quindi dopo aver applicato il nero 3 step avrò bisogno del sigillante top cool che è senza strato di inibizione ossidativa un trucco per fare in modo che venga un effetto specchio perfetto e avere una superficie completamente liscia quindi prima di polimerizzare il top vado a girare la tip in modo tale che si autolivelli perfettamente lo farò quindi polimerizzare completamente un minuto in lampada led e poi con l'aiuto di un pennellino in silicone vado a prelevare e a massaggiare bene la polvere sulla superficie della tip facendo attenzione ad arrivare bene ovunque per eliminare l'eccesso di polvere andremo a spolverare con una spazzolina morbida e poi sigilleremo nuovamente per un aggrappo maggiore del top vi consiglio l'applicazione del primer a see free in punta questo è il risultato delle due diverse versioni delle polveri con la polvere rose gold ho creato un effetto invernale marmorizzato mentre con la versione gold l'ho usata per un set un pochino più minimal ma autunnale siete curiosi di sapere come ho creato queste nail art? allora cosa aspettate? seguiteci anche su tiktok e instagram per vedere i tutorial che ho preparato per voi ma prima vi ricordo che tutti i nostri prodotti li potrete trovare presso tutti i rivenditori crystal nails d'italia e sul sito www.crystallnays.it www.crystallnays.it Grazie a tutti.